A la parola il ministro per i beni e attività culturali, Sandro Monti. A la parola il ministro per i beni e attività culturali, Sandro Monti. Il ministro per i beni e attività culturali, Sandro Monti. Anche per non tradire il significato di questa commemorazione, di continuare a leggere il mio discorso. In questo modo voi, noi stiamo facendo il significato più profondo di questa commemorazione. Permettetemi dunque di leggere, a lungo del governo, il mio discorso. Il ministro per i beni e attività culturali, Sandro Monti. La parola il Sky Harbor, il mio discorso. Outro di cui 85 persone tengono una mistura e vita vicina delle oscure trame delle versioni armate. Un momento più buio della nostra storia repubblicana, l'apice di insensatezza e di brutalità raggiunto dalle forze che hanno più volte tentato di interrompere la crescita della democrazia e il progresso sociale del nostro paese. Nel dopoguerra l'Italia è stato il teatro delle perversioni, di una guerra presa che oggi gli storici non hanno remore a desiparare ad una strisciante guerra civile. Difficile è stato ricostruire le responsabilità di questa guerra.